Ha visto le onde anomale? Sì, è arrivata qui a questo punto qui, dei punti in bianco sono queste onde, ma più che altro il mare che si era sollevato, si rompeva e tutti questi bambini che ruzzolavano lì perché con i genitori qui, erano tanti qui a riva, e l'acqua è arrivata qui all'esrae, la gente correva, fuggiva, qualcuno si è fatta male nelle braccia, e anche acqua, sabbia, lì sono riempiti i bambini, è stata una cosa un po' così, impressionante in quel momento, ma dopo passava chiaramente, secondo me, non è che dovuto ad altri fattori, era qualche nave da crociera che passava a largo, allora provoca queste onde anomale, non è né terremoti né tsunami qui da noi, però indubbiamente ha fatto un certo effetto vedere queste onde che si formavano proprio qui in cima, non tanto a largo, vedere mano a mano che si avvicinavano, sempre più grandi, fino ad arrivare qui che si rompevano con una certa preoccupazione, specialmente per i bambini piccoli. Eravate qua quando è successo? Sì, sì, eravamo qui. In acqua o a riva? In acqua, sì, qui sulla spiaggia arriva. Che cosa avete visto? Abbiamo visto un'onda molto grande, io in pratica sono stato anche travolto dalla nave di salvataggio, sì. Si è fatto male? Un pochettino qua, però non è successo niente. Lei è una delle persone che si è ferita? Io mi sono fatta poco male, ho preso un colpo qui, un colpo alle ginocchia, ma perché sono stata fortunata. I signori che erano di fianco a me, un signore senza una gamba, con una protesi e la signora, stavamo passeggiando sulla riva, di colpo è arrivata un'onda piuttosto alta, poi successivamente, in una successione molto veloce, ne sono arrivate altre tre. Quindi ci hanno sbattuto per terra, ci hanno fatto rotolare. Chiaramente il signore con la protesi era quello più in difficoltà. Ci sono stati anche altri feriti un po' più gravi, come dicevano? No, no, la signora è piuttosto... Il signore della gamba si è ferito un braccio, ma niente di drammatico. Invece l'altra signora, quella che l'ha cercato di aiutarla, si è rovinata entrambe le gambe. Ritengo che sia stato un terremoto. Lei invece ha visto qualcosa? Terrorismo. Davanti, quindi ha visto tutto? Ho visto volare il Moscone e i botti. Bum, 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 bum. Ai Dio, che è successo? Sarà truppa. Ombrellone in prima fila. Avete assistito a queste onde anomale? Purtroppo no, stavo a fare la doccia, quindi me la sono persa, mi dispiace. Neanche lei signora, non c'era? È stata dopo, soltanto per sentito dire. Mai visto, mai visto, la prima volta, mai visto. E chissà, eravamo qui, noi ci siamo salvati perché l'ha portato, il Moscone che lo chiamiamo, l'ha portato fino qua, la rovesciata.